Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like Jaroslav Panuska è stato un illustre pittore e illustratore cieco, nato il 3 marzo 1872 a Ovice e scomparso il 1 agosto 1958 a Kokanov, nella Ciecoslovacchia. La sua arte si distingueva per il trattamento inquietante di temi legati alla morte, alla solitudine e al soprannaturale, rendendo Panuska uno dei principali rappresentanti della scuola artistica di Praga. Figlio di un agrimensore, Panuska studiò arte a Praga con il famoso pittore Julius Mack, attraverso il quale sviluppò il suo stile unico e distintivo. Durante gli anni 90 dell'Ottocento, godeva di grande prestigio tra gli artisti della capitale cieca, emergendo come una figura di spicco nel panorama artistico locale. Uno dei soggetti frequenti dei suoi dipinti era la cosiddetta Quercia di Panuska a Kokanov, località in cui visse dal 1923 fino alla sua morte. Qui, l'artista trovò ispirazione per molte delle sue opere, immerse in un'atmosfera suggestiva e misteriosa che caratterizzava il suo stile. Le opere di Panuska sono oggi parte di numerose collezioni private e musei pubblici, tra cui la prestigiosa Galleria Nazionale di Praga. L'artista è stato inoltre protagonista di varie mostre interdisciplinari su temi del XIX secolo, che hanno evidenziato il suo contributo alla cultura artistica del periodo. La sua figura ha continuato a esercitare un'influenza duratura nel mondo dell'arte, tanto che nel 2014 la band cieca Master S. Hammer ha dedicato una canzone a Panuska nel loro album Vagus Vetus. Questo omaggio testimonia la rilevanza e l'impatto dell'artista cieco anche nel contemporaneo panorama culturale. Jaroslav Panuska si è distinto per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso la sua pittura, creando opere che continuano ad affascinare e ispirare gli spettatori ancora oggi. Il suo contributo all'arte cieca e mondiale è immenso, e la sua eredità artistica rimarrà indelebile nel tempo, continuando a suscitare ammirazione e interesse da parte di appassionati e studiosi di tutto il mondo. Jaroslav Panuska è stato veramente un maestro nell'arte del colore e della forma, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico cieco. Nel corso della sua carriera, Panuska si distinse per la sua capacità di combinare elementi del misticismo e dell'occulto con uno stile artistico unico e riconoscibile. Le sue opere spaziavano dal disegno puro e semplice alla pittura a olio, e affrontavano tematiche complesse come la dualità dell'esistenza umana, la lotta tra il bene e il male, e la ricerca spirituale. Le sue opere erano caratterizzate da una profonda introspezione e da un'atmosfera malinconica e inquietante, che riflettevano le influenze del decadentismo e del simbolismo. Uno dei temi ricorrenti nelle opere di Panuska era la figura del clown, spesso rappresentato con un'espressione triste e malinconica, simbolo della fragilità dell'animo umano e della macabra ironia della vita. I suoi dipinti e disegni erano pervasi da una sensazione di inquietudine e di mistero, con atmosfere cupe e surreali che evocavano mondi nascosti e segreti. Panuska era anche un abile illustratore di libri, e la sua collaborazione con scrittori e poeti dell'epoca contribuì a diffondere la sua fama. Le sue illustrazioni erano spesso intricate e dettagliate, ricche di simbolismi e allusioni mistiche, che arricchivano ulteriormente il testo originale e ne amplificavano il significato. Nonostante la sua relativa oscurità nel panorama artistico dell'epoca, Panuska ebbe un impatto duraturo sulla scena artistica cieca e internazionale, influenzando generazioni successive di artisti con il suo stile visionario e inquietante. Le sue opere risuonano ancora oggi per la loro profondità emotiva e per la loro capacità di trasmettere sensazioni universali legate alla condizione umana. Il periodo storico in cui Panuska iniziò la sua carriera artistica fu caratterizzato da un crescente interesse per l'arte dell'orrore e del mistero, influenzato dalle teorie dell'ipnosi e dai racconti del folclore. Nonostante le sue opere fossero popolate da creature mostruose e spettrali, non si limitavano a semplici raffigurazioni narrative, ma avevano lo scopo di evocare negli osservatori gli nascosti nell'inconscio umano. Nelle sue opere, i vampiri avevano un ruolo predominante, ispirati al mito del vampiro presente nel folclore balcanico e slavo. Tuttavia, la visione di Panuka riguardo a queste creature non era limitata alla rappresentazione cinematografica più popolare, ma si basava su versioni più antiche e primitive del mito. I vampiri di Panuka erano spesso descritti con sembianze animalesche, come rettili o lucertole, con occhi enormi che fissavano minacciosamente l'osservatore. La presenza costante di vampiri e mostri nelle opere di Panuka era legata ad alcuni eventi fondamentali della sua vita, come la visione di un uomo impiccato e la tragica morte della madre. Questi traumi infantili, uniti agli studi accademici e all'interesse personale per l'ipnosi e la psiche umana, hanno contribuito a plasmare il mondo scuro e inquietante che l'artista ha creato attraverso i suoi dipinti e disegni. Panuka era un'artista che padroneggiava la deformazione grottesca e la distorsione delle proporzioni, tecniche che utilizzava per dar vita alle sue creature mostruose. Queste opere non erano semplici illustrazioni di racconti popolari, ma riflettevano un commento personale dell'artista sugli stati psichici estremi, le psicosi e le nevrosi dell'animo umano. Le visioni, le allucinazioni e le apparizioni presenti nelle opere di Panuka rappresentavano un'esplorazione degli angoli oscuri e nascosti della mente umana, cercando di suscitare nell'osservatore sensazioni di terrore e paura. L'interesse per l'ipnosi e le teorie neuroscientifiche di Jean-Martin Charcot hanno influenzato profondamente l'arte di Panuka, che cercava di esplorare i confini tra realtà e fantasia, tra coscienza e inconscio. I suoi dipinti erano un tentativo di sondare l'abisso della mente umana, di portare alla luce i demoni interiori che si nascondono nell'oscurità dell'inconscio. Inoltre, Panuka era influenzato dall'atmosfera culturale e artistica dell'epoca, che vedeva un crescente interesse per il macabro e il misterioso. L'arte dell'orrore e del mistero era un modo per esplorare i confini della realtà e della percezione umana, di sfidare i limiti della mente e della coscienza. Panuka era un pioniere in questo campo, un visionario che sapeva spingere i limiti della creatività e dell'immaginazione. Nonostante la sua fama sia principalmente legata alle sue opere di genere horror, Panuka avrebbe avuto successo anche come pittore paesaggista, mostrando una versatilità e una profondità artistica che spaziava tra i diversi generi e stili. Tuttavia, è nel suo lavoro sull'orrore e sul mistero che Panuka ha lasciato un'impronta indelebile, un'eredità di visioni oscure e inquietanti che continuano a suscitare fascinazione e timore negli osservatori di ogni epoca. Jaroslav Panuka emerge come una figura fondamentale nell'ambito dell'arte decadente della Bohemia di fine Ottocento, capace di tradurre le tensioni e le contraddizioni del suo tempo in opere d'arte intense e suggestive. Il suo contributo alla scena artistica dell'epoca va oltre il semplice valore estetico delle sue creazioni, rappresentando una profonda esplorazione della psiche umana e dei suoi tormenti più profondi. La sua eredità artistica rimane attuale e intrigante, continua a ispirare nuove generazioni di artisti e a stimolare la riflessione sulle dinamiche della nostra esistenza.